Come si sente in generale? Mi sento un po'... apatica, credo. Ha delle persone con cui parlare? Amici? No, fermati! Quando stacchi, perché non passi in ufficio per un bicchierino? Basta! Perché? A che nuoce? A tua moglie, per esempio. Buongiorno, Steven prenderà il posto di Trevor. Salve. Questo posto è per quelli che vogliono fuggire. Per quelli che non stanno bene altrove. Era bellissimo. Lo hai ancora. E dove sei? Capita spesso? Beh, sì. E ovunque ti giri, non è così. Nessuno ti darà mai la vita che vuoi. Senti, tu hai un problema, lo sai questo? Te la devi andare a prendere. ... ... Quel piccolo raggio di luce è una fuga.